guardate cosa ho comperato avevo 100 gemme cioè non è quello blu ma avevo 120 gemme ne avevo 120 di povere leggende adesso però c'è qua qua è questo e cerchiamo di fare un poco di coppe quindi ragazzi per questo video lasciate arriviamo a 10 like se volete un episodio con May JTV il mio caro amico eppure Chris09 comunque e se facciamo un episodio con me con me 1096 May JTV e Chris09 tutti quelli delle serie che hanno partecipato aació non stassi, tentari anni uccido ok ok raga un mj se stai guardando questo video mio caro amico mj stare guardando questo video è la mission impossible volevo prendere un po' di trofeno giochiamo ancora 1096 major tv mio caro amico poi 1096 e chris09 voi tre state guardando questo video significa che vi voglio bene faremo tutti e quattro un video insieme su come montare un pc prima o poi io costruirò un pc vero e faremo un pc come costruire un computer un case di tutti i pezzi che sto raccattando di qua e di là che vuoi? Allora raga Ciao Una bella cosa Vic Ronda 6 My JTV Io nel prossimo video sceglierò uno di voi tre Per venire a casa mia E costruire un computer Ok Da quando scrivete pure My JTV Scrivete dei commenti Chris0916 ChrisMJ ChrisMJ Scrivete dei commenti E poi io sceglierò E poi E costruiamo un computer Consistiamo operativo Windows Ok E non recuperare i trofei Ok Mettiamo Mettiamo Sempre Comunque ragazzi Questo video finisce qua Se vi è piaciuto Lasciate like E iscrivetevi Cliccando Poi ragazzi Praticamente Dovete cliccare Il tasto rosso Iscriviti E attivare la campanella Ciao 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 Alla prossima Ciao 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 Ciao